Musica Referendum nel Vallo di Diano si afferma il no, il day after di Forza Italia e Partito Democratico. Atena a Lucana, domani i funerali di Vincenzo di Santi, ritrovato morto sulle montagne di Monte San Giacomo. Economia, la banca Montepruno tra le principali banche in Campania, creatrici di valore. Monte San Giacomo, domani il convegno sul tema dell'economia medidionale. Sport, ciclismo, ieri il trofeo meridiana a Polla, calcio, i risultati di eccellenza prima, seconda e terza categoria. Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con le Uno News. In primo piano il referendum, in tanti hanno partecipato ieri al referendum sulla Costituzione, che una riforma chiesta dall'attuale governo, che però non ha visto il voto favorevole da parte dei cittadini italiani, che in massa e in percentuale maggiore rispetto agli ultimi anni, si è presentata alle urne per dire no alla riforma. È stato un vero e proprio plebiscito il referendum della riforma della Costituzione italiana, che dopo anni di urne disertate dagli elettori, ha fatto nuovamente registrare una grande partecipazione al voto. I dati del Vallo di Diano e Golfo di Policastro sono perfettamente allineati con la media nazionale, rispecchiando la volontà della maggior parte del popolo italiano. Dopo un periodo di forte astensionismo, ieri i cittadini sono tornati in massa ai seggi per esprimersi sulla riforma della Costituzione italiana, come decisa dal Ministro per le Riforme Boschi e dal Premier Renzi. Una riforma che non ha raccolto il consenso sperato, con un risultato in tutta Italia inaspettato per il fronte del sì e insperato per il fronte del no. Dopo una campagna elettorale impensabile per un referendum, con toni decisamente accesi, oltre che le numerose notizie di possibili brogli, matite cancellabili, schede già votate, intere pagine di quotidiani dedicate alla voce del sì, tralasciando ogni riferimento al no, anche in giorno di silenzio elettorale ed altri, che si sono diffuse nelle ore immediatamente precedenti al voto e anche durante l'apertura dei seggi, non ci si aspettava certo una così chiara espressione della volontà dei cittadini italiani. In barba a quanto accaduto per Brexit ed elezioni in America, in Italia nessun dubbio su ciò che gli italiani volevano. Una percentuale inafferrabile di no era già ben chiara nei primi exit poll, con la conferma dei dati che vedevano il no in netto vantaggio e con una percettuale del 60% circa. Dati confermatissimi anche ad operazioni di scrutinio concluse. E il Vallo di Diano e il Golfo di Policastro hanno reagito in ugual maniera. In tutta Italia solo tre le regioni, che seppur con un divario limitato, hanno visto primeggiare il fronte del sì. Ben diverso il discorso per il no, che ha vinto in tutte le altre regioni e con un differenziale ben più ampio, di media superiore al 60%. Tra Vallo di Diano e Golfo di Policastro sono stati soltanto 4 su 27 i comuni in cui ha vinto il sì. Si tratta di Caggiano con il 55,58%, Pertosa con il 52,66%, Sanza con il 50,78%, Casella e Impittari con il 52,52%. In ogni caso, pur avendo vinto il sì, la percentuale in nessun comune è riuscita a raggiungere o comunque ad avvicinarsi al 60%. Diverso invece è il discorso per il fronte del no, che ha raggiunto e superato ampiamente il 60% della media italiana nella stragrande maggioranza dei comuni, in alcuni casi arrivando a sfiorare addirittura il 70%. Torraca infatti ha fatto registrare un vero e proprio voto plebiscitario con il 69,83% degli elettori che hanno votato no. Percentuali altissime per il no anche negli altri comuni del Golfo di Policastro che hanno ampiamente superato addirittura il 65%. Ma nel Vallo di Diano non sono da meno dove la media supera abbondantemente il 60% nonostante la netta predominanza dei sindaci di fede PD. Tra i comuni valdianesi con la più alta percentuale di no troviamo Montesano sulla Marcellana con il 66,96%, Padula con il 66,26% e Sala Consilina con il 65,96%. Nella parte sud della provincia di Salerno quindi la popolazione ha deciso di mobilitarsi esprimendo chiaramente la sua posizione nei confronti di questa riforma della Carta Costituzionale che evidentemente e chiaramente non è piaciuta. E il day after il referendum è senza dubbio il giorno dei commenti su quanto è emerso dalle urne. Forza Italia e con il vice coordinatore provinciale Valentino Di Brizzi si sofferma in particolare sul voto emerso nel Vallo di Diano un Vallo di Diano che con il suo no ha dimostrato di avere a cuore il proprio territorio che è stato vittima di soprusi. Praticamente c'è stata una chiara espressione degli italiani di voler mandare a casa Renzi e tutto il suo gruppo. Anche la provincia di Salerno ed in particolar modo il nostro territorio ha ragionato nello stesso modo come tutta l'Italia. E chiaramente per noi è una soddisfazione maggiore una grande soddisfazione perché come tutti sappiamo il Vallo di Diano ma anche il Golfo di Policastro voglio dire è governato dalla quasi totalità delle amministrazioni comunali di centro-sinistra. Il Vallo di Diano in modo particolare dove oltre ad aver fatto una grande campagna elettorale il centro-sinistra e il PD in modo particolare invece il centro-destra e i movimenti per il no hanno raggiunto una percentuale altissima hanno superato il 60% in quasi tutti i comuni quindi su 27 comuni del Vallo di Diano e della provincia di Salerno solo 4 se li sono aggiudicati il movimento per il sì. Siamo soddisfatti davvero, dobbiamo continuare su questa ottica e chiaramente un gioco di sinergie come è avvenuto in questa tornata diciamo referendaria per Forza Italia ha fatto sì che grazie alla guida dell'onorevole Mara Carfagna del coordinatore senatore Fasano ma di tutto il gruppo diciamo di Forza Italia Salernitano si sono raggiunti dei risultati che sono veramente importanti. Questa grossa affluenza che non si registrava ormai da tantissimi anni il fatto che per un referendum siano andati a votare oltre il 65% degli italiani ha dimostrato che gli italiani vogliono essere protagonisti vogliono decidere il proprio futuro e credo che sia importante quello che noi abbiamo detto negli anni quindi fondamentalmente credo che in questo momento abbiamo bisogno di una riforma seria di una riforma elettorale che veda gli italiani protagonisti e soprattutto che in territori come i nostri si possano eleggere i parlamentari si possano eleggere i colori uguali che devono rappresentare la nostra terra anche perché ne abbiamo bisogno. Scelleratezze come quelle che sono accadute attraverso il primo governo Letta dove ha visto chiudere il nostro tribunale Sala Consilina e oggi con questo governo che ha visto chiudere il carcere di Sala Consilina nonostante sia venuto anche il viceministro migliore ha praticamente quasi tifare la chiusura del carcere e ha dimostrato che la gente vuole difendere il Vallo di Diano vuole difendere il Golfo di Policastro diciamo tutta la provincia di Salerno. Il regno di De Luca quello salernitano anche e soprattutto nel Vallo di Diano dove sappiamo che nel Vallo di Diano tanti sono i seguaci di De Luca forse la totalità delle amministrazioni del Vallo di Diano e ripetiamo il Vallo di Diano per oltre l'80% è governato da amministrazioni di centro-sinistra e come dicevo questo regno di De Luca ha avuto una grande sconfitta ma anche perché non si può offendere questo territorio noi siamo un territorio che non abbiamo bisogno della frittura di pesci il nostro territorio ha dimostrato di voler cambiare rispetto a Renzi che era un governo scelerato che voleva delle riforme forzate che non era quello che volevano gli italiani e soprattutto ha dimostrato che il nostro territorio vuole essere, come dire, protagonista vuole avere voce in capitolo e soprattutto vuole essere rappresentata da gente onesta e soprattutto non si vende per una frittura di pesce Diverso invece è l'umore in casa Partito Democratico il coordinatore territoriale Domenico Cartolano ha fatto una sua analisi registrando a suo avviso un importante consenso quello del referendum intorno alla figura di Matteo Renzi che ha raggiunto il 40% delle preferenze nonostante fosse solo contro tutti Domenico Cartolano sottolinea come si sente orgoglioso del segretario del partito che ha subito annunciato le dimissioni mantenendo così la sua promessa Il risultato è chiaro, preciso, netto, inequivocabile una straordinaria sconvitta come ha definito l'ex presidente del Consiglio perché oggi da galantuomo qual era assegnerà le dimissioni quindi un risultato che ha visto che l'italiano che è sovrano il popolo è sovrano quindi l'elettore ha sempre ragione prendiamo atto che il 60% non sappiamo di chi è Traforza Italia, Lega, Cinque Stelle Fratelli d'Italia, Fratelli di Roma quindi questo 60% è di tutti noi abbiamo un dato certo che il 40% è di Matteo Renzi è del Partito Democratico e di chi ha creduto nella riforma ma prendiamo atto che è stata policizzata lui ha perso, come giustamente ha detto ma ha perso il partito parte del Partito Democratico perché c'era anche una sinistra la parte estrema del partito che era per il no l'italiano ha voluto che i corsi della politica rimanessero inalterati che il CNEL rimanesse quindi vogliono che le cose rimangano così vanno rispettate bene fanno i sindici a mantenersi della indennità bene fanno i consiglieri regionali a mantenersi della indennità bene fanno a pagare un milione di quattrini con i nostri soldi le loro indennità i loro stipendi perché la gente il popolo del Solano ha avuto questo e noi abbiamo il dovere di rispettare la volontà popolare come nel Vallo di Diano come a Salerno come ad Agropria quindi nemmeno le fritture di pesce che vanno a migliorare le fritture di pesce hanno portato alla vittoria il sì e quindi rimane così com'è ma la cosa importante è che è stato il popolo italiano a decidere quindi nessuna scusa la politica non ha corsi eccessivi va bene quindi spero che da oggi non ci siano più lamentelle che si continuano così com'è perché ripeto l'Italia ha deciso che questa è la riforma giusta cambiamo argomento la cronaca si verranno domani mattina i funerali dell'odontoiatra Vincenzo e Di Santi l'uomo di Atranocana morto sul monte Cervati sabato scorso dopo che era stata segnalata la scomparsa nessun esame autoptico sulla sua salma che in giornata è stata riconsegnata ai familiari sono previsti per domani mattina 6 dicembre i funerali del 52enne dentista di Atena Lucana deceduto sulle montagne di Monte San Giacomo mentre stava trascorrendo una giornata dedicata alla sua passione come scalatore Vincenzo Di Santi dentista particolarmente amato Atena Lucana non solo per le sue capacità professionali ma anche per il suo carattere particolarmente allegro disponibile e rispettoso verso tutti come spesso accadeva si allontanava dalla quotidianità rifugiandosi nelle montagne valdianesi con il suo fuoristrada una passione che non lo aveva mai abbandonato e che negli ultimi anni si era anche arricchita con la grande passione per le arrampicate venerdì mattina come sempre era partito con il suo fuoristrada diretto sul monte Cervati nel territorio di Monte San Giacomo dove ha lasciato il suo veicolo per poi dedicarsi alle arrampicate da quel momento del dottor Di Santi non si sono più avute notizie l'impossibilità a mettersi in contatto con lui hanno fatto scattare l'allarme e sabato mattina sono partite le ricerche appena ritrovato il suo fuoristrada i timori che potesse essere accaduto qualcosa di grave vigili del fuoco carabinieri e corpo forestale dello Stato sono partiti alla ricerca dell'uomo anche utilizzando gli elicotteri purtroppo poco dopo le 12 è stato rinvenuto il corpo privo di vita di Vincenzo Di Santi una notizia che ha sconvolto l'intera comunità atenese dove era particolarmente amato ma anche l'intero vallo di Diano particolarmente conosciuto per la sua professione di odontoiatra la sua morte ha sconvolto anche la comunità pollese avendo legami di parentela con il sindaco Rocco Giuliano il suo corpo dopo il ritrovamento è stato trasportato presso l'ospedale Luigi Curto di Polla a disposizione dell'autorità giudiziaria non è previsto l'esame autoptico pertanto vista la prevista restituzione ai familiari sono stati disposti i funerali in programma domani mattina martedì 6 dicembre alle ore 10 presso la chiesa di San Michele Arcangelo ad Atena Lucana Scalo messaggio di cordoglio e dolore sono arrivati da tutto il vallo di Diano a dimostrazione di quanto Vincenzo Di Santi sempre sorridente e gioviale fosse amato Cambiamo argomento ora la sanità ancora carenze di personale medico e mancata dotazione tecnologica questi principali motivi per cui le organizzazioni sindacali e il comitato d'osguro hanno scritto una lettera ai referenti regionali e provinciali della sanità per richiedere un rapido intervento con una lettera indirizzata ai vertici della sanità provinciale e regionale le organizzazioni sindacali CGL FIALS UIL FPL e Comitato Curo lamentano ancora una volta la gravissima carenza di personale medico presso il presidio ospedaliero di Polla e sottolineano come gli impegni assunti dalla direzione generale circa l'espedamento degli avvisi pubblici per il personale medico e gli investimenti per la dotazione tecnologica tutt'oggi sono completamente disattesi mancano medici specialistici nelle branche dell'emergenza urgenza di cardiologia e pronto soccorso e nelle specialistiche di urologia neurologia fisiopalodologia respiratoria nonché di pediatria per quanto riguarda la dotazione tecnologica la nota sottolinea come non sono state ancora installate le apparecchiature per la litotrissia extracorporea i laser a decimetri e a fetmo secondi e ne è programmata la sostituzione di apparecchiature che ormai risentono della oblosorescenza dei tempi trascorsi mentre sono stati solo effettuati ulteriori tagli al budget destinato agli investimenti tali da comprimere sempre di più la capacità di specializzazione del presidio ospedaliero in argomento nella nota i firmatari chiedono di applicare l'atto aziendale in maniera omogenea su tutto il territorio dell'asero di Salerno anziché applicarlo solamente per porzioni di territori che hanno già subito pesanti tagli strutturali e di servizi di prevedere con urgenza l'arrivo di un urologo di un endoscopista in virtù del riconoscimento dell'unità operativa di numero 4 posti letti di un pediatra di due cardiologi causa l'inatteso trasferimento di un medico ad altro presidio di due neurologi e un tecnico di neurofisiopatologia atteso da 5 anni e due medici di pronto soccorso con comprovata esperienza nel campo dell'emergenza urgenza inoltre le organizzazioni sindacali e il comitato curo chiedono la definitiva conferma del riconoscimento del punto nascita in deroga alla normativa nazionale per l'unità operativa di ostetricia e ginecologia la riassegnazione nell'ambito del dipartimento dei servizi dell'anatomia patologica presso il presidio ospedaliero di Polla al fine di garantire il trattamento dei campioni di incitologia i pap test e la preparazione dei campioni anatomici propedeutica all'effettuazione degli esami presso i laboratori dell'uopo dedicati infine l'appunto sull'ospedale di Sant'Arsenio che quanto programmato possa essere al più presto realizzato mediante il coinvolgimento da parte della direzione sanitaria del presidio ospedaliero e della dirigenza sanitaria dei rappresentanti dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta per avviare anche in via sperimentale l'unità complessa di cure primare e l'ospedale di comunità Andiamo avanti con il nostro telegiornale sono previste per domenica 18 dicembre le elezioni per il rinnovo del consiglio dei delegati del consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro per il quinquennio 2017-2021 intanto per domani mattina alle ore 11 presso gli uffici di via Mezzocapo a sala consiglina il presidente uscente Luigi Morello terrà una conferenza stampa per tracciare il bilancio di questi suoi cinque anni di presidenza chiamiamo argomento ancora un grande riconoscimento per la banca Montepruno che anche quest'anno è sulla rivista Atlante delle Banche ed emerge tra le principali realtà di credito in grado di creare valore posizionandosi al secondo posto in Campania A riforma delle BCC praticamente pronta seppur con numerose incognite la banca Montepruno continua ad essere tra le prime banche creatrici di valore è infatti stato pubblicato il nuovo numero dell'Atlante delle Banche 2016 e ancora una volta come ormai accade da diversi anni la banca Montepruno è presente nelle prime posizioni riuscendo a distinguersi a superare istituti di credito che operano in realtà sicuramente meno complicate più ricche la rivista pubblicata in collaborazione da Milano Finanza Italia Oggi premia anche quest'anno il lavoro svolto dai dipendenti dell'istituto di credito diretto da Michele Albanese che continuano a confermare il loro impegno sul territorio risultando la seconda BCC in Campania come creatrice di valore ha sottolineato che i dati presi in esame si riferiscono ad un periodo antecedente alla programmata fusione con la BCC di Fisciano da sola quindi la banca Montepruno che opera in territori come il Vallo di Diano Alburni e parte del Cilento dove le attività imprenditoriali sono ridotte rispetto ad altre aree della regione Campania e dove anche la popolazione soprattutto in questi ultimi anni fa registrare una notevole riduzione in riferimento ai residenti e agli operatori economici per gli esperti di Milano Finanza e di Italia Oggi viene considerata banca in grado di creare valore a livello generale l'istituto di credito in Campania si classifica al quarto posto dopo il colosso Banco di Napoli e la Banca Popolare di Torre del Greco come BCC arriva subito dopo la BCC di Battipaglia è evidente come si tratta di istituti di credito che lavorano in vere e proprie realtà industriali ma anche con una densità abitativa di gran lunga superiore aree dove il bacino di utenza su cui poter intervenire è sicuramente più alto e dove le difficoltà sono ridotte rispetto ai centri su cui opera invece la banca Montepruno aree marginali dove per una lunga serie di problematiche che vanno dalla viabilità ai collegamenti ai servizi alla ridotta presenza di enti di supporto alle attività commerciali di formazione e di promozione rendono particolarmente difficile ipotizzare crescita e sviluppo eppure il direttore Michele Albanese e i suoi collaboratori sono riusciti a portare la banca Montepruno di Roscigno tra le grandi un ulteriore segnale di quanto il credito cooperativo e soprattutto l'istituto di credito come la Montepruno che conosce bene la realtà su cui opera è in grado di ascoltare le esigenze dei suoi clienti e di aiutarli sia in grado di contribuire ad un progetto di crescita Cambiamo argomento domani mattina il colonnello Antonino Neosi nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Salerno sarà in visita istituzionale presso la città di Padula alle ore 9.30 il colonnello sarà presso il liceo scientifico Carlo Pisacane per poi proseguire la sua giornata a Padula visitando il museo Gio Petrosino la presenza del colonnello Neosi rientra in un percorso di educazione alla legalità che porta avanti il comune di Padula insieme al liceo Pisacane e soprattutto nell'ambito della valorizzazione e conoscenza dei beni di Padula che sono legati a questa tematica quindi un importante appuntamento che vedrà coinvolta tutta la cittadinanza nella giornata di domani cambiamo argomento andiamo a Monte San Giacomo dove ieri sera sono stati presentati nuovi membri della Proloco tantissimi volti nuovi e tanti progetti in cantiere ma vediamo tutti i dettagli ieri sera presso l'Officina Cultura del Palazzo Marone sono state presentate le nuove eleve della Proloco di Monte San Giacomo a presiedere l'associazione Antonietta Romano che con la sua personalità eclettica guiderà l'intera squadra il vicepresidente sarà Walter Nicodemo il tesoriere Alessandro Romano la segretaria Chiara Lisa poi ancora tanti volti giovani di questo braccio operativo Laura Monaco Marianna Lisa Daniele Apicella Michele Pasquale e confermati i vecchi Giovanni Chirichella e Giuseppe Spina le parole d'ordine del nuovo gruppo sembrano essere vitalità e voglia di mettersi in gioco soprattutto lavorare a favore del territorio e dello sviluppo sociale della comunità all'insegna del rinnovamento senza trascurare la tradizione dopo la presentazione della squadra sono stati resi noti al pubblico e alla stampa i progetti futuri tra i quali nell'immediato il Tombolone che è organizzato per il giorno 26 dicembre presso il ristorante Rezzo e la tradizionale Sagra Arpatane Cic che quest'anno è giunta alla sua 33esima edizione e si terrà nei giorni 29 e 30 dicembre in piazza Giovanni Amendola lasciandola quindi nel centro storico là dove è nata a portare l'augurio dell'intera amministrazione ieri sera c'era il vice sindaco Angela D'Alto che ha colto l'occasione per comunicare una novità la delega del comune all'associazionismo è passata infatti al consigliere comunale Aldo Manno presente in sala e insieme hanno ribadito la piena disponibilità alla collaborazione da parte dell'amministrazione il nostro auspicio ha dichiarato Angela D'Alto e che la Proloco svolga un ruolo sempre più attivo che vada oltre gli eventi tradizionali che svolga quindi un ruolo di coordinamento tra le tante associazioni presenti sul territorio e sembra aver centrato l'obiettivo che la nuova Proloco si è prefissata vuole essere infatti un volano di rilancio in stretta collaborazione con le altre realtà aggregative locali quindi il comitato San Giacomesi nel mondo e anche la parrocchia a proposito di questa sinergia è stato presentato anche un altro progetto in cantiere il giubileo parrocchiale del 2020 per i 450 anni della dedicazione della chiesa parrocchiale San Giacomo Apostolo tantissimi gli eventi a cui la proloco il comitato e la parrocchia hanno pensato per il triennio di preparazione al giubileo e che coinvolgeranno oltre alla comunità anche i san Giacomesi residenti all'estero con una sana voglia di rinnovamento l'approccio che la nuova squadra sembra voler adottare va nella direzione ma è sbagliata di accentuare il valore identitario e mantenere un legame sempre profondo con le proprie radici il prossimo 9 dicembre ci sarà in regione campania una nuova audizione sul progetto referendum dei comuni del Vallo di Diano al progetto città Vallo di Diano in vista di questo nuovo appuntamento è programmato un incontro pubblico il prossimo 6 dicembre alle ore 18 presso l'aula consigliare del comune di Sala Consilina organizzato dall'associazione agricolo rurale Oligo Cheti all'evento parteciperanno il sindaco di Sala Consilina Francesco Cavallone il presidente dell'associazione Dolo dell'Io Angelo Mango vicepresidente l'avvocato Antonio Santarsiere segretario e Carmelo Buffano primo firmatario della proposta del progetto comune città Vallo di Diano ebbene noi con questa notizia terminiamo la prima parte delle Uno News ci vediamo dopo la pubblicità per la seconda parte seconda parte dell'edizione serale delle Uno News domani pomeriggio presso Palazzo Marone a Monte San Giacomo si terrà il convegno dopo la crisi l'economia meridionale locale nel mercato globale un evento organizzato dal centro studi Palazzo Marone in collaborazione con il comune di Monte San Giacomo e la banca Montepruno che vedrà tra i vari tradatori anche il rettore dell'università di Salerno il magnifico rettore Aurelio Tommasetti domani pomeriggio alle ore 17 presso Palazzo Marone a Monte San Giacomo si svolgerà un interessante convegno dal titolo dopo la crisi l'economia meridionale locale nel mercato globale l'incontro è organizzato dal centro studi politici sociali e culturali Palazzo Marone dal comune di Monte San Giacomo e dalla banca Montepruno con la collaborazione dell'università degli studi di Salerno dell'associazione Svimez e del denaro all'appuntamento parteciperanno illustri relatori tra cui si sottolinea la presenza del magnifico rettore dell'università di Salerno Aurelio Tommasetti per l'occasione apriranno i lavori coordinati dal vice sindaco di Monte San Giacomo Angela D'Alto il sindaco Raffaele Accetta e il direttore del centro studi Palazzo Marone Carmine Pinto L'introduzione sarà a cura del direttore generale della banca Montepruno e presidente del centro studi Palazzo Marone Michele Albanese A seguire interverranno Veronica Caporrino docente di diritto commerciale internazionale presso l'università degli studi del Sannio Giuseppe Provenzano vice direttore Svimez sul tema il mezzogiorno oggi e le prospettive di sviluppo Anton Luca Cuoco del denaro sul tema intervenire fa progredire Marco Santillo dall'università degli studi di Salerno sul tema lo stato dell'economia nel Salernitano una fotografia in movimento sarà una grande occasione di confronto ha commentato il direttore generale della banca Montepruno Michele Albanese grazie alla presenza di relatori di altissimo profilo siamo felicissimi di poter ospitare il magnifico rettore Aurelio Tommasetti proprio presso il centro studi Marone in quanto sarà un'occasione per far conoscere meglio anche a lui non solo la nostra terra ma anche questa realtà del centro studi Palazzo Marone la quale con grande impegno sta lavorando alla costruzione di progetti culturali e sociali davvero ambiziosi relativamente al tema del convegno invece continua Albanese l'obiettivo è di focalizzare l'attenzione sull'economia del meridione e nello specifico quella locale attraverso un approccio scientifico e pratico fornendo spunti interessanti che possano servire a tutti gli operatori economici del territorio ai professionisti ma anche alle aziende che osservano e studiano gli andamenti del mercato la crisi non è definitivamente passata ma c'è necessità di guardare oltre e approfondire le prospettive e le occasioni di mercato da cogliere infine una breve considerazione su questo centro studi di cui mi onoro tra l'altro di essere presidente in quanto stiamo intensificando la nostra azione soprattutto con il contributo di professionalità di alto profilo che assicurano in primis qualità agli appuntamenti culturali ma che soprattutto danno il loro contributo per lo sviluppo e la crescita del territorio attraverso una fitta rete di relazioni che con cura stiamo potenziando Andiamo a Padula dove l'associazione Life Onlus e il forum dei giovani sabato scorso hanno presentato Occhio alla strada l'incontro tematico sulla sicurezza stradale nel corso del pomeriggio è stato proiettato anche il film Young Europe che tratta proprio del tema della sicurezza stradale attraverso lo sguardo delle nuove generazioni l'incontro si è concluso con testimonianze direste sul complesso fenomeno sociale a seguire per noi l'evento c'era Pietro Cusati siamo qui a Padula nella sala conferenze della parrocchia Sant'Alfonso ospitati genuinamente profitto per ringraziarlo appunto da Don Vincenzo Federico per portare questa nuova tappa di Occhio alla strada un progetto a favore della sicurezza stradale portato in tutti gli istituti superiori appunto nello scorso anno e che oltre a queste tappe appunto che hanno visto protagonisti giovani delle scuole superiori sta girando in diversi paesi del Vallo di Diano dopo i saluti iniziali ci sarà appunto la visione di uno dei film più famosi appunto sulla sicurezza stradale che è Young Europe un film prodotto dalla polizia stradale e a seguire vi saranno delle testimonianze appunto dirette di chi ogni giorno vive questo appunto problema che è la sicurezza stradale ancora una volta la Life guidata da Daniele Campanelli può in essere un'iniziativa degna di nota la Banca Montiopruno in questo caso stasera l'associazione Montiopruno giovani sono sempre vicini all'attività di Daniele e della sua associazione lo siamo per due motivi fondamentalmente uno perché Daniele è un amico è un amico e quindi è un giovane del nostro territorio che fa tanto per il nostro territorio e quindi un'associazione di giovani per forza di cose al suo fianco e lo siamo perché il messaggio che veicola è comunque un messaggio estremamente importante e il sostegno non è mai troppo siamo fortunati noi come un'associazione che abbiamo una banca alle nostre spalle che crede in questi messaggi e ci mette nelle condizioni di supportarli Io sono molto contenta di essere qui per la mia testimonianza e anche per il ruolo che io adesso ho di consigliere politico della Presidente Campora in materia di sicurezza stradale perché è un tema che sento molto mio per un'esperienza vissuta ma anche per il fatto che sia convinta che la sicurezza stradale deve essere tutelata deve essere seguita e tutti quanti noi dobbiamo agire con tutti gli strumenti che abbiamo per darle luce Questo incontro vuole promuovere ecco l'attenzione verso i giovani sul tema della sicurezza stradale sul tema della responsabilità nel vivere la vita in maniera intelligente rispetto a quelle che sono le situazioni che spesso i giovani si trovano a vivere sulla strada l'ebbrezza della velocità più che l'ebbrezza della velocità si dovrebbe provare a gustare l'ebbrezza della vita la gioia del vivere nel rapporto con gli altri nelle relazioni non cercando di farsi del male di far del male quindi ecco anche perché queste situazioni generano sempre dolore tremendo alle famiglie queste situazioni generano uno stravolgimento della vita delle persone quindi questo incontro vuole educare al senso della responsabilità e a gustare la bellezza della vita il tema sicurezza stradale è uno dei più importanti sostanzialmente è molto importante parlarne proprio per creare un coinvolgimento con tutti i cittadini è un discorso che riguarda tutte le generazioni quindi non va a prendere solo varie categorie ma è un problema dell'intera società e parlarne serve proprio a creare questo coinvolgimento e sensibilizzare le persone per avere una guida comunque prudente e stare attenti a non guidare né facendo abuso di alcol o di droga né tantomeno guidare con distrazioni quindi utilizzando gli smartphone ed ora la pagina sportiva dal ciclismo partiamo a Polla ieri si è svolto il quinto trofeo meridiana città di Polla organizzato dalla Meridiana Pro Cycling Team in collaborazione con la Banca Montepruno e il patrocinio del Comune di Polla e dell'US Acli si è tenuto ieri mattina il quinto trofeo Meridiana Città di Polla un evento organizzato dalla Meridiana Pro Cycling Team in collaborazione con la Banca Montepruno e con il patrocino del Comune di Polla e dell'US Acli ha visto protagonisti atleti provenienti da tutta la regione che si sono confrontati lungo il percorso che partendo da Contrada Pozzo costeggiava le sponde del fiume Tanagro per poi ritornare in Contrada Pozzo dove era fissato anche l'arrivo sul circuito si sono svolte la gara internazionale di mountain bike e la ciclocross i partecipanti si sono trovati a partire dalle ore 8 presso l'agriturismo il Pozzo di Peppino alle ore 10 era fissata la partenza per la categoria mountain bike che per nove volte ha ripetuto il circuito da due chilometri e mezzo al termine della competizione è partita la gara del ciclocross con gli atleti che hanno ripetuto invece otto volte il circuito al termine della competizione intorno alle 12 c'è stato il passaparti preceduto dalla premiazione dei vincitori nella classifica assoluta il primo posto l'ha conquistato Monsillo Onofrio della SD Murolo Costruzioni secondo posto per Matriciano Antonio della SD Partenium e al terzo Gian Gregorio Felice della SD Civitas nella categoria ciclocross si sono distinti Masullo Francesco della SD Murolo Costruzioni Coletta Mario Antonio Gretano della società piconese Melendugno e Carusone Giancarlo della SD Murolo Costruzioni non è stata una corsa di strada ma è una corsa di monte a bike ciclocross diciamo che la giornata è stata bellissima ci siamo si sono divertiti i ragazzi Meridiana ha molti programmi per l'anno 2017 quali sono? esattamente noi abbiamo siamo un team professionista che fa strada il 2017 siamo pronti ad affrontarlo già alla prima gara che si fa il mese di febbraio in Toscana e poi in programma 8-9 giri come lo scorso anno diciamo che abbiamo riconfermato due talenti internazionali dal nome da Rabottini a Mucelli e penso che con questi due campioni possiamo affrontare serenamente il 2017 è in animo del promotore Antonio Gianlorenzo proprio istituire una casa museale sul ciclismo che sarebbe un unicum in tutto il centro sud Italia questo per quanto ovvio ci fa felici e ci fa ben prospettare appunto sulle attrattività che si possono anche conseguire attraverso di un territorio attraverso appunto il ciclismo e lo sport in generale oltre che Meridiana che è stata protagonista di successi in passato e anche nel presente abbiamo la Pro Cycling Tanagro che pure è molto attiva nel settore del ciclismo ogni anno facciamo una manifestazione a San Vidal Tanagro di grande partecipazione di pubblico e credo che questo insieme ad altri fattori possa determinare appunto l'attrattività del territorio valoidiano in generale è la quinta volta che noi sosteniamo questa iniziativa una bella giornata di sole una bella giornata di sport un piccolo contributo per una bella giornata appunto come dicevo prima dedicata allo sport che ha visto la partecipazione di tante persone come ben sapete noi siamo sempre presenti in tutte queste iniziative perché crediamo nel territorio e crediamo anche nel fatto che queste iniziative possano servire allo stesso quindi lo sport come strumento per dare visibilità anche al territorio anche lo sport così come tante altre iniziative in materia culturale in materia di formazione martedì ci sarà un convegno molto importante a Monde San Giacomo tante piccole iniziative a nostra presenza non soltanto in tematiche direttamente bancarie ma anche in tematiche che bene o male interessano a tutti quanti ed ora il calcio un valdiano con 7 nuovi acquisti in campo non trova la vittoria in casa del Sant'Agnello Cibele illude la formazione Blaugrana una protezza di scala a metà del secondo tempo nega il valdiano il primo successo stagionale mister Criscuolo ha a disposizione anche l'ultimo arrivato in casa Blaugrana a Bate e schiera una formazione completamente rinnovata per 7 undicesimi restano nell'undici titolare solo Farano e Spinelli come over e gli under Casella e i soldi dopo un primo tempo concluso a Redi Bianchi il valdiano sblocca il risultato all'ottavo della ripresa con Cibele che di testa realizza su assist della femmina Valdiano sblocca il risultato all'ottavo della ripresa con Cibele che di testa realizza su assist di della femmina il momentaneo vantaggio partita in discesa per i Blaugrana che provano a contenere il ritorno dei patroni di casa la tavola è dunque apparecchiata per il primo successo stagionale in campionato Mascala rovina la festa al ventiduesimo quando trova una conclusione al volo vincente sulla quale Faggiano al suo ritorno nella porta valdianese non può nulla la partita termina qui i cambi non mutano la situazione se prima della trasferta in terra costiera era necessario fare 32 punti su 54 disponibili per ipotizzare la salvezza ora ne restano 31 su 51 da conquistare per i ragazzi di mister Criscuolo che ha rivoluzionato la squadra in questo avvio di mercato una rivoluzione che si completa molto probabilmente nel settore degli over con l'arrivo di Ambrogio Sorriso 15 gol dello scorso campionato di eccellenza che svolgerà domani pomeriggio al fratelli Cardielo di Sant'Arsenio il suo primo allenamento con il resto del gruppo e nel prossimo servizio invece facciamo il punto sui campionati di prima seconda e terza categoria weekend di campionato importante anche nei tornei minori del calcio campano nel campionato di prima categoria a Girone G solo il Real Palomonte grazie alla vittoria esterna sul campo dell'Alfanese per 3 a 0 approfitta del turno di riposo della Gregoriana Capolista la squadra di Luca Di Mieri si porta così a meno uno dalla vetta del Girone resta al palo invece il Cicerale bloccato tra le muramiche dal Sassano la formazione del Presidente Ricciardone trova con Grimaldi al 38esimo della ripresa il gol del definitivo 2 a 2 pari casalingo invece per il Certosa di Padula che al comunale contro il Rofrano non va oltre l'1 a 1 un pari maturato in pieno recupero grazie al gol di Polito sconfitta casalinga infine per la Pollese che al Medici perde 3 a 2 per mano del Real Agropoli che sotto di due gol doppietta dell'ex Valdiano Pecchenedda ribalta il punteggio con Bamonte Cannalonga e Crisci nel campionato di seconda categoria Girone L vola la San Murese che grazie al successo esterno in casa delle Lea Virtus allunga a più 5 dall'avversario di giornata e a più 6 dal Provatela che non va oltre il pari in casa del Gioi successo casalingo invece di misura per l'atletico Montesano contro l'atletico Caselle infine nel campionato di terza categoria Girone F si ferma la marcia del Buonabitacolo Soccer che impatta 2 a 2 in casa del Ceraso ma comunque resta primo nel Girone nel Girone D sconfitta casalinga di misura per i Black Lions contro il Colliano Futura Pirotecnico 4 a 4 tra Monte San Giacomo e Sassano e 2 a 2 tra Real Bianche e Montepruno lo Scigno con lo sport termine il nostro TG grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata a Música Autore dei sorrisi